La campagna di sensibilizzazione alle morti evitabili contro l'abuso di alcol è stata fortemente voluta dall'azienda ospedaliera universitaria Luigi Ivan Vitelli che da sempre è impegnata nella prevenzione ma soprattutto nella promozione della salute dei cittadini che assiste. I destinatari della campagna sono le donne in gravidanza, le persone alla guida e gli adolescenti. Nelle donne in gravidanza infatti una percentuale significativa di alcol ingerito dalla madre viene assorbito dal bambino con conseguenze che possono pregiudicare la sua salute futura. Il consumo di alcol alla guida voglio rappresentare che la percezione di essere in grado di guidare dopo aver bevuto anche una piccola quantità di alcol ci trae in inganno e quando ce ne accorgiamo è troppo tardi. Per quanto riguarda il consumo di alcol in particolare super alcolici da parte degli adolescenti questo compromette il loro sviluppo futuro sia in termini di cattive abitudini di vita che di reale danno mentale e fisico come ben testimoniato dal gruppo di ricerca coordinato alla professoressa Loguercio, docente e capo dipartimento assistenziale presso la nostra azienda ospedaliera universitaria Ivan Vitelli.